Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Cane in fuga d'amore, morde una donna, attimi di paura, sabato mattina nel quartiere di Fano 2 Orizzonte Fano, l'amministrazione analizza i dati di edilizia commerciale e residenziale Il quadro degli ultimi dieci anni e sabato il convegno Carnivale di Fano all'edizione 2017 si conclude con un successo di presenze Domenica tentativo di record e delegazioni straniere Appuntamento con lo sport e i risultati del fine settimana Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia, apriamo con la cronaca Poliziotti in azione nel quartiere di Fano 2, vediamo il perché Niente scassinatori di benzina o spacciatori o topi d'appartamento Questa volta di impegnare gli uomini delle volanti del commissariato di Fano Nella mattinata di sabato scorso è stato un esemplare maschio adulto di pastore tedesco Scappato di casa, o per meglio dire di cuccia Per seguire il richiamo della natura e correre dietro a qualche esemplare femmina Ma dopo aver divelto a Morsi il recinto che lo costringeva alla castità Gira che ti rigira da via Fanella si è ritrovato a Fano 2 Nel cuore del quartiere, spaurito e disorientato Gli agenti delle volanti sono dovuti intervenire su segnalazione di un grosso cane libero Con fare aggressivo che si aggirava per il quartiere e che aveva appena morso una persona I poliziotti a loro arrivo hanno avuto il loro da fare per redimere l'animale molto agitato E che non si lasciava affatto avvicinare Per scongiurare il rischio che potesse rivolgersi verso qualche altro passante I due agenti hanno cercato di incantonarlo in un vicolo cieco Dove una volta bloccato lo hanno tenuto a bada in attesa dell'arrivo del suo padrone L'esemplare di pastore tedesco regolarmente assicurato e munito di chip Veniva affidato così al suo proprietario La persona aggredita è una donna di 50 anni residente nel quartiere Che aveva tentato di avvicinarlo Ma il cane, forse per difesa o per essere fuori dal suo habitat Aveva morso la donna ad un braccio ma senza affondare i denti nella carne Provocando solo un ematoma e un po' di spavento alla malcapitata Cosa per la quale la cinquantenne decideva così di non ricorrere alle cure mediche E rimaniamo nella cronaca ma andiamo a Pesaro Perché ieri pomeriggio durante la sfilata dei cari al carnevale dei ragazzi Una donna di 37 anni di origini peruviane è stata colpita da un sanpietrino Durante il getto delle caramelle Cosa che le ha procurato una profonda ferita al capo Ed è stata portata per questo al pronto soccorso del San Salvatore Per alcuni punti di sutura Autrice del gesto violento Un'altra donna descritta dalla vittima come romena e coetanea Con la quale in passato aveva avuto altre discussioni dal carattere acceso La romena dopo il folle gesto ha fatto disperdere le sue tracce Sul posto è arrivata oltre al 118 anche una volante della Polizia di Stato E rimaniamo nella cronaca Parliamo delle conclusioni, delle indagini Per 24 imprenditori coinvolti nel crack Molazzani Costruzioni S.P.A. La ditta edile riminese è fallita nel 2013 Sono tutti manager dal giro d'affari importante Tra Rimini, Pesaro, Senigallia e Fano Indagati e destinatari del 415 bis Per una delle bancarotte più grosse degli ultimi anni E per la quale le fiamme gialle hanno già ottenuto sequestri Per un valore complessivo di oltre 60 milioni di euro Tra le ipotesi di reato Le cessioni in prossimità del fallimento alle ditte dei creditori Di numerose porzioni del complesso immobiliare Conosciuto come Pesaro Porta Ovest Del complesso edilizio di Piazza Roosevelt a Cattolica E di negozi ed uffici a Rimini E rimaniamo nel campo dell'edilizia Però l'edilizia sana Quella che c'è stata e quella che dovrà venire Naturalmente stiamo parlando di Orizzonti Fano E dell'analisi di carattere socio-economica Dell'Università di Urbino A disposizione del Comune di Fano C'è stato un ulteriore incontro Vediamo di che cosa si è parlato Fano dal 2001 al 2011 Ha avuto un impressionante sviluppo edilizio Con un più 42% Mentre Pesaro segnava un 30% E Senigallia un 34% Frutto della spinta economica E probabilmente dell'incremento della popolazione Dovuto all'insediamento di tante maestranze Che venivano a Fano Su impulso della cantieristica e dell'economia Che a quel tempo tirava forte Sarà improbabile per Fano crescere ancora i ritmi passati Tra il 1991 e il 2015 Ben 5 km quadrati Pari al 37% Sono stati occupati Ritmi superiori anche a quelli della crescita demografica Che segnava solo il 16% In vista dell'appuntamento del 4 marzo Per l'osturbano nella ex Chiesa Sant'Arcangelo E Memoteca Montanari L'amministrazione comunale traccia il quadro Delle dinamiche edilizie del territorio Quindi sono tutti spunti di riflessione Che noi mettiamo sul tavolo Dell'incontro che facciamo sabato Alla Memo Su Orizzonte Fano Questa prospettiva del piano strategico Per far ripartire e rilanciare la nostra città I dati forniti dall'Università di Urbino Mostrano che la categoria che segna L'aumento più consistente Sono gli edifici commerciali barra produttivi Con i suoi edifici che segnano in 10 anni Una crescita del 224% Passando da 976 nel 2001 A 3162 nel 2011 Andando a rappresentare ben il 20,4% del territorio Meno marcata la crescita degli immobili residenziali Cresciuti nello stesso periodo del 24,6% Passando da 9902 a 12302 137 nel 2011 Segno anche della tendenza demografica a calare Come numero di unità per famiglia Che abbiamo visto nello scorso report E' l'aumento degli alloggi Segno è che la richiesta è sempre per metrature più piccole Gli edifici crescono del 24% Mentre gli alloggi nello stesso periodo Schizzano del 45% Ma a fronte di un'offerta così vasta Non corrisponde a una domanda adeguata Così aumentano gli alloggi vuoti A Fano nel medesimo periodo sono 7.380, 21% A Senigallia 6.453, 25% A Pesaro 4.928, 11% Tra i quartieri che più si sono sviluppati Spiccabellocchi con un 121% Dovuto al nuovo quartiere residenziale E poi Fenine 90% e Camminate 86% Molta offerta e poca domanda Poi determinano anche un abbassamento Dei valori immobiliari Che a Fano segna una flessione negativa del 6% Incidente stradale in via Bellandra Si è reso necessario fare corso alle cure dei medici Ed è stato trasportato al pronto soccorso di Fano Sul posto una pattuglia della polizia locale Per i rilievi del caso Archiviamo l'ampia pagina della cronaca Ed ora parliamo di Carnevale Domenica scorsa c'è stata l'ultima grande sfilata Nel pomeriggio tantissima gente Proveniente da tutta Italia Ma gli avvenimenti si sono susseguiti fin dal mattino Vediamo il resoconto della giornata La carnevalesca resta fedele a se stessa E anche per questa terza domenica Rimane allergica ai numeri Così per valutare le presenze Ce ne andiamo a spanne O per la precisione a colpo d'occhio Che a giudicare anche da questa incursione Sulla torretta della direzione Si presenta davvero impressionante Questa edizione del Carnevale Sarà ricordata per tante cose Quelle nuove fatte Quelle lasciate al passato L'anno dei carristi al timone dell'ente I loro giganti che nel bene o nel male Hanno fatto discutere L'assenza dei baci perugina Ma sicuramente una su tutte Mette molti d'accordo La grande affluenza di pubblico Di alle Gramsci così pieno Anche al mattino Non lo vedevo da un pezzo Questa una delle tante affermazioni ricorrenti Poi vatte la pesca Come questi fanno a fare i conti Ma questo è un altro argomento Domenica numero 3 Numero 3 Direi che è un'altra grande Bella giornata di sole C'è tanta gente Sicuramente ne arriverà ancora Tanta altra E il divertimento è assicurato Penso che il Carnevale di Fano Abbia avuto veramente E' un grande successo E' una grande partecipazione Da parte di tanta tanta gente Che proviene non solo da Fano Ma da fuori E anche all'estero Quindi Che dire Veramente Tanta felicità Tentativo di record Per il Guinness dei primati Con la ola più grande del mondo Il tormentone del pomeriggio Dopo due tentativi Buona la terza Responso però Fra 12 settimane Il Carnevale di Fano Si è tinto di internazionalità Questa domenica Con le delegazioni stradiere Cubane e Moldava Ricevute nella residenza comunale Dal sindaco Seri Anche questo è un appuntamento importante Che dà ulteriore colore E vivacità al nostro Carnevale Ma soprattutto è anche un'occasione Per tenere rapporti internazionali Che stimolano anche partecipazione E promozione della nostra città Oggi come amministrazione Non possiamo che essere cortesi E cordiali E ricevere in modo più degno Dignitoso Il rappresentante dell'ambasciata Di Cuba a Roma E anche per ristaurare Altri tipi di rapporto Perché poi Sappiamo benissimo Che dalle iniziative Nascono anche Rapporti di altra natura Che hanno anche Delle ricadute economiche Sul territorio Ma la giornata è stata lunga Partenza pronti via Dalle 10 del mattino Con l'evento Nell'evento di quest'anno Il Carnevale dei Bambini E il Voulon Che ci pensa a lui A dare nozioni a grandi mani E nella miglior tradizione Anche gli amici a quattro zampe Hanno avuto una mattinata Nel loro momento di gloria Con non pochi esemplari Diciamo così Particolari Adesso è giorno Ma di notte Quando mamma ti dice Facciamo nana Uno, due E tre Giù Domenica Domenica si è conclusa Anche la fortunata Trasmissione post-sfilata Di Fano TV Processo al Carnevale Dove si è argomentato Sui tanti spunti Che la densa giornata Ha offerto Con gli ospiti in studio E anche in questa puntata Non sono mancate le proposte Per la prossima edizione Che magari Vista la rodata possibilità Di chiudere i varchi Non si possa fare a pagamento Con un biglietto d'ingresso O di incentivare i carristi A dare il meglio di loro stessi E ripristinare così Il concorso a premi in denaro Per il miglior carro E pensando al mattino Perché non escogitare Una forma di getto Solo per i più piccoli Questi Ed altri spunti Nati nelle puntate precedenti Saranno inviati Al legittimo destinatario E arrivederci All'anno prossimo quindi E domenica Durante la sfilata Si sono viste anche Tante maschere in più Bisogna dirlo Questo sicuramente Ha reso un'atmosfera Ancora più avvolgente E insomma Di carnevale Palpabile Ma per chiudere Completamente La pratica carnevale Dobbiamo aspettare Ancora 24 ore Domani Tutti in piazza Per il rogo del pupo Per mettere definitivamente La parola fine Sul carnevale Dobbiamo aspettare domani Dove l'ormai attesissimo rito Del rogo del pupo In piazza 20 settembre Chiuderà la carmesse Carnascialesca Fitto Come per tutte le altre giornate Il programma Appuntato dalla carnevalesca Prima di dare fuoco Alle fascine Sotto il pupazzo Di cartapesta In piazza Il martedì grasso Parte dalle 15 e 30 Con uno spettacolo Per bambini Del teatrino rosso Dal titolo Lo strano caso Del banchiere delle fiabe Poi Spazio alla musica Con una band Dal vastissimo repertorio Che spazia dagli anni 70 80 E blues Aspettando il rogo del pupo Però Si darà spazio Alla dea bendata La fortuna Con l'estrazione finale Dalla lotteria Del carnevale Che bacerà Il fortunato possessore Del biglietto vincente Della Opel Carl A finire il tutto Alle 19 e 30 L'ente carnevalesca Il sindaco Massimo Seri Appiccheranno il fuoco Al pupo Salutando definitivamente Il carnevale di Fano 2017 Oltre a tanta gente Tanti turisti E parliamo di turismo Perché insomma Un accordo importante È stato siglato Per la proloco provinciale Soprattutto per la formazione Dei suoi addetti Sentiamo di che cosa si tratta Allora La formazione è importante Soprattutto per gli addetti Delle proloco Sì Sabato scorso Ci siamo riuniti In consiglio provinciale A Fano E abbiamo Qui preso Delle decisioni Molto importanti Una tra le tante Decisioni importanti È formare i volontari Per l'accoglienza E la promozione turistica Del nostro territorio Quindi chi è in una proloco In una sede della proloco Deve essere Secondo noi formato Per raccogliere E promuovere al meglio Il nostro territorio Quindi il consiglio provinciale Da oggi si mette a disposizione Ma non solo Questo Ha scaturito anche L'accordo Con le associazioni di categoria Che adesso ne abbiamo già avuto Vari incontri Sia con la Conf Commercio Che con la Conf Esercenti Che insieme Collaboreremo Per la promozione Del territorio E per Fare sinergia E squadra Su tutto il territorio provinciale Io credo che questo sia Un esempio importante Di vicinanza A tutte le proloco Della nostra provincia Dall'entroterra Al mare Quindi un evento Molto importante Che il consiglio provinciale Punta tantissimo a questo E poi da qui Ne susseguiranno Tanti altri Tanti altri incontri Per essere sempre più vicini E sempre più presenti Nel rispetto Nel lavoro Che le proloco Stanno facendo In questo territorio E qui devo dire La sincera verità Su questo lavoro Sono supportato Da tutto il consiglio provinciale In particolar modo Dalla segretaria Laura Silvestroni Che è al mio fianco Che si sta impegnando Tantissimo E anche lei Sta mettendo Anima e corpo E spendendo Come tutti noi Il nostro tempo Sottraendolo Alle nostre famiglie Quindi un sentito ringraziamento Anche lo rivolgo A tutti i volontari Della nostra provincia Che svolgono Un lavoro preziosissimo Che se non ci avremo I volontari Non potremo fare Assolutamente Nessuna manifestazione Nessuna promozione Del territorio Bene Buon lavoro A tutte le proloco Del territorio Per l'importante Apporto Che danno Al turismo E al sostegno Del territorio Ed ora Parliamo anche Dello sport Che tutti i lunedì Rompe in questa edizione Del telegiornale Come sempre Dalla redazione sportiva Tutti gli avvenimenti E le gare Del fine settimana A te la linea Matteo Grazie Lino Buonasera a te E agli amici sportivi Di Fano TV Partiamo come sempre Dal calcio Dove l'Alma Juventus Fano Dopo la vittoria Sul Teramo E il pareggio di Macerata Manca l'appuntamento Con il terzo risultato Utile consecutivo E resta sempre più ultima In fondo alla classifica Nel campionato Di Lega Pro Almancini Nell'anticipo Della ventisettesima giornata Passa alla reggiana Di mister Minichini E lo fa Con una rete per tempo Sfruttando le indecisioni Dei padroni di casa Già sotto Dopo sette minuti Quando Guidone Su perfetto assist Di Genevrier Si infila Tra Ferrani E Zigrossi E porta avanti i suoi L'Alma tenta Una reazione Che si rivelerà Però troppo timida E sono anzi Gli ospiti Che vanno vicini Il raddoppio In più di un'occasione L'opportunità più ghiotta Per pareggiare Capita tra i piedi Di Fioretti Che al quarantesimo Non c'entra la porta Da ottima posizione Seppur sotto di un gol E al cospetto Della quarta forza Del campionato L'Alma non molla E l'avvio di ripresa È incoraggiante Con Bellemo Che già all'ottavo Mette i brividi Alla retroguardia Emiliana La doccia fredda Per il Fano Al venticinquesimo Quando Bovo Capitalizza un'azione corale Di Carlini e Sbaffo Innescata da un disimpegno Sbagliato di Ferrani Il gol ospite Fa calare il sipario Sul match E ora la situazione Per gli uomini di Cuttone Anche ieri in tribuna Per squalifica E sostituito dal vice Scardovi Si fa davvero complicata A undici giornate Dal termine L'Alma è sempre più ultima A tre punti Dai play out E a nove Dalla salvezza diretta E il derby di settimana prossima Contro l'Ancona Terzultima Potrebbe risultare Davvero decisivo Ai fini della classifica E chi un cambio passo Nella propria classifica L'ha fatto E l'età beta Nelle campionato nazionale Di serie B Di calcio a 5 I ragazzi del presidente Serafini infatti Grazie al doppio successo Di martedì Contro Atri nel recupero E sabato Contro Montesilvano Nella ventunesima giornata Sono usciti Dalla zona retrocessione Agguantando a quota 20 I cugini dell'Alma Juventus Sconfitti a loro volta Per 6 a 5 A Castelfidardo Festa doppia Per i ragazzi di Barnesi Che dopo il 3 a 2 Contro gli abruzzesi Firmato da Ettai e Galvao Hanno brindato Nel post partita Al ventiseiesimo compleanno Di Robson Ultimo arrivato In casa Granata E sempre più trascinatore Nella corsa alla salvezza Nel campionato femminile Di Serie A Invece Continua l'altalena Del Flaminia Che dopo il 2 a 2 Sul campo del Maracanà Dream Fuzzal È costretta A scendere dal gradino Più alto della classifica Dove ora c'è il Rambla Padova Squadra che tra l'altro Le Fanesi Incontreranno nella prima sfida Della Final 8 Di Coppa Italia In programma Dall'11 al 15 marzo Di Simona Borgogelli E Sara Berti Le reti del 2 a 2 Nella partita di ieri In terra maceratese Con le ragazze Di Alessandre Imbriani Che si mangiano le mani Per aver sciupato A fil di sirena Una ghiotta occasione Per portare a casa L'intero bottino Chi invece Continua a mantenere La vetta della classifica Nonostante la sconfitta È la Virtus Fano Nel campionato Di Serie C Di volley I ragazzi allenati Dal tandem Pascucci-Vicchi Dopo il 3 a 2 Subito sabato A San Severino Restano primi A tre punti di vantaggio Sulla seconda E l'obiettivo playoff Al quale accederà Solo la prima classificata Di questa seconda fase Continua a rimanere Alla portata Ben diversa è la situazione In campo femminile Dove l'Apav Calcinelli Lucrezia Dopo la sconfitta interna Per 3 a 0 Di sabato Ad opera dell'Offida Resta al penultimo posto In classifica E per evitare La retrocessione diretta In Serie D Deve ora guardarsi Le spalle Dal mai cicero Volley Pesaro Che dista Dalle ragazze Di Morris Meloni Solo quattro lunghezze E chi invece All'interno Del proprio vocabolario Non conosce la parola Sconfitta È l'ice Pofano Che nell'ultimo weekend Ha ottenuto ottimi risultati A macerata Nella gara regionale Di Bocce Organizzata dalla Bocciofila Fontespina Bene 9 gli atleti In corsia Per il sodalizio Del presidente Romina Lesiani Impegnato nella manifestazione Organizzata dalla FIB Federazione Italiana Bocce E dalla FISDIR Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale Ennesimo successo Per Manuel De Marc Medaglia d'oro Nel singolo C21 E nella coppia agonisti Assieme all'amico E compagno Manuel Anniballi Degno di nota Anche il quarto posto Di Jacopo Primavera Nella promozionale E le ottime performance Di tutti i giocatori Scesi in campo Provenienti dalle bocciofile San Cristoforo di Fano E Metaurense di Calcinelli A premiare De Marc e Sochi E' stata Assunta Legnante Campionessa paralimpica Ai giochi di Rio 2016 E chiudiamo la pagina sportiva Di questa sera Tornando a parlare di calcio E nello specifico Del Real Gimarra Squadra capolista Del girone B Della seconda categoria Grazie al pareggio Per 2 a 2 Ottenuto sabato Sul campo della Major Seconda in classifica I ragazzi di mister Andrea Vitali Oltre a mantenere la leadership Continuano nel loro personale record Con quello di sabato Infatti I risultati utili consecutivi Sono 12 E l'obiettivo Oltre al passaggio di categoria E' quello di entrare Nella storia Del calcio dilettantistico regionale Come squadra Con il maggior numero Di risultati positivi Consecutivi Il nome nel libro dei record I giallonero Lo hanno comunque già scritto Grazie alle 11 vittorie di fila Ottenute dalla decima Alla ventesima giornata E con i complimenti Al Real Gimarra Si chiude la pagina sportiva Di questa sera Come sempre vi ricordo L'indirizzo mail Al quale poter inviare Le vostre segnalazioni Le vostre foto E i vostri comunicati Che è sport Chiocciola Fanotv.it Per questa sera Non ci sono altre notizie Da parte mia Della redazione sportiva L'augurio a tutti voi Di una buona serata Bene, grazie Matteo E allora Prima di lasciarvi Vi dico un paio di cose Importantissime Per noi Sono le vostre segnalazioni Avete tanti canali Con cui entrare In nostra comunicazione E naturalmente Uno su tutti Il 338 49 68 250 Il nostro numero di Whatsapp Nel quale ci potete mandare Foto, segnalazioni E quant'altro E poi a seguire Questo TG Ci sarà un approfondimento Sempre per quanto riguarda Orizzonte Fano Marco Ferri In intervista Qui in studio L'assessore Samuele Mascarin Nell'approfondimento Dopo il TG Bene Questo è tutto Grazie per essere stati In nostra compagnia Il TG torna domani sera Grazie E buona serata A tutti voi A tutti voi